No, perché se scrive mi annoio e basta. Prima di lavorare dobbiamo imparare. No, perché ci sono i piccoli medie. A scuola si fanno cose più facili da fare lavoro, come compiti, lavoretti. Si scrive il quaderno. Si legge. Secondo me non è un lavoro. Lavori da casa. E mi fai sconosco quest'anno. Quando un adulto lavora da casa. Una noia. Quando uno lavora con i computer. E' qualcosa che si trova sul telefono. Perché così stai a casa. E' un matto. Da tre menucce. Io non lo so. Riparare i trattori mentre fai anche il bar. La raccolta caffè. Un dottore che ama dipingere. Il catturo elettricità. Siata pazza. Una fabbrica che produce unicorni. Li userei per i bambini poveri. Prendendo qualcosa di caldo per loro. Mi prenderanno un sacco di colline alla colline per prendere tutti i passi. Due belle case. Lo scivolo per la scuola. Il girato di ronicano. Li userai per comprare tutte le case dell'Italia. Sconfiggere le malattie. Comprare le cose che ai bambini poveri mancano. Il girato di ronicano. Non è che puoi decidere. E' bello. Io per lavoro voglio fare quello che voglio. Lo scivolo. Lo scivolo. Lo scivolo. Lo scivolo. Grazie.